Non solo il presente. Il club azzurro è molto attento anche alle mosse future per mantenere sempre competitiva la rosa a disposizione di Mr. Spalletti. L'ultimo giocatore finito sul tacquino del DS Giuntoli sarebbe proprio Florentino Luis, centrocampista che si sta mettendo in luce con il Benfica. Ha un contratto fino al 2027. La squadra portoghese approdata ai quarti di finale di Champions League, merito anche delle ottime prove del classe 1999. Di origini angolane ma con passaporto portoghese, fa parte dell'Under 21. È un classico mediano in un centrocampo a tre con spiccate doti difensive ma può giocare anche da mezzala. Secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur, esperto di calciomercato, il Napoli starebbe osservando attentamente Florentino ma dovrà fare attenzione all'inserimento del Milan. Grazie a tutti!